Ospedale di Ribera in arrivo nuovi macchinari che andranno a potenziare il reparto di radiologia del Fratelli Parlapiano e quanto è scaturito dalle diverse riunioni che si sono svolte a Ribera ed Agrigento tra il Sindaco Pace, il Direttore Sanitario Cascio, l'On. Di Mauro e il Direttore Generale dell'ASP Santonocito. Il manager dell'azienda sanitaria provinciale ha già autorizzato l'acquisto della risonanza magnetica nucleare e della mammografia. L'obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente il nosocomio riberese, ha dichiarato il Sindaco di Ribera Carmelo Pace con il Direttore Generale Giorgio Giulio Santonocito che si è impegnato inoltre all'acquisto della mineralometria ossea computerizzata e alla ristrutturazione dei locali della vecchia divisione di pediatria per installare un nuovo reparto di geriatria previsto peraltro dalla rete ospedaliera provinciale.